erano anni che cercavo di salire sul castello del garagnone vuoi per pigrizia vuoi perché non volevo lasciare il mezzo giù ma oggi è stata un'occasione giusta e questa è la visuale pazzesca da sopra i ruderi del castello del garagnone lì è il parcheggio giù quella è la rocca di orlando e queste erano le mura sulla roccia che sfruttavano la roccia viva la roccia esistente quella la prima torretta vi porto insieme a vederla e qui la torretta di avvistamento che da giù si vede benissimo è l'unica e qui c'è le mura del castello che sono ben visibili sicuramente un'altra torretta di avvistamento qui continuavano le mura che ormai non ci sono più queste due stanze penso penso potrebbero essere delle stalle un ricovero notturno non vi so dire la precisa però lì vedo che sembra un cammino eccetera quindi penso siano quelle altre mura altro sperone è quello è lo sperone più facciato più abbarbicato sulla roccia viva giù masseria melodia e vi faccio godere della visuale appieno il vento c'è pazienza quello non posso eliminarlo e questo è il punto più alto di tutto il castello e qui la visuale è davvero pazzesca ci siamo solo noi è bellissimo davvero un'emozione stare qui oggi ciao a tutti e vi consiglio di venire a vederla